Attenzione, invito tutti dal diffidare di chi dovesse presentarsi a mio nome, col nome di Fulvio Abate, proponendo acquisti di prodotti, diciamo così, commerciali. Si tratta di truffatori sconosciuti al momento che ho provveduto a denunciare presso gli uffici competenti della Polizia Postale. Costoro utilizzano, o costui, utilizza le mie credenziali fiscali. Spero che sia presto assicurato alla giustizia. Non ho nulla, si tratta di sostituzione di persona, di identità. Grazie, vi invito a passare parola. Fulvio Abate.